Si occuperà di sicurezza e ambiente nel comune di Castellamare di Stabia, la sua città. Il maggiore dei carabinieri Gianpaolo Scafarto, che ha indagato sul caso Consip, ed è tuttora sotto inchiesta a Roma con le accuse di falso, rivelazione del segreto d'ufficio e depistaggio, configurate proprio con riferimento alla vicenda nella quale è coinvolto anche Tiziano Renzi, padre dell'ex premier. Non ho appartenenze politiche, dice Scafarto, voglio solo dare una mano alla mia città. Io non ho nessuna vedeta politica, ho solamente voglia di portare il mio contributo, la mia esperienza al servizio della città. Il rapporto con il sindaco, con il metano Cimino, è un rapporto di vecchia data, ci conosciamo già di questo tempo, e mi faceva piacere cercare di fare qualcosa di concreto per la città nella quale abito, dove vivo. Io ho solamente a cuore di fare bene il mio lavoro, nello specifico di cercare di poter risolvere qualche problema che affligge la nostra città. Per 23 anni ho prestato servizio mettendo a disposizione di varie comunità la mia esperienza. Oggi ho un'occasione più unica che rara di poterlo fare per la città nella quale sono cresciuto e che attualmente vivo. Grazie. 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 Grazie.